Ciao a tutti da Giovi e Giovi. Oggi abbiamo preparato dei dolci tipici di questo periodo. Ecco a voi i nostri taralli. Taralli che si fanno nel periodo dei morti nella provincia di Palermo e Palermo. Fateci sapere nelle vostre zone se le fate anche voi. Se volete provarli per la ricetta potete guardare dove indica Giovi e vedrete che bontà. Cliccate sulla scheda qui in alto alla vostra destra e vedrete che spettacolo che farete. Ciao a tutti da Giovi e Giovi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.